corrono dei pericoli perché possono finire sotto una macchina oppure possono essere disturbati dalle persone, quindi bisogna sapere come comportarsi. In particolare avrete magari sentito la storia dell'agosto scorso di quella femmina con tre cuccioli che era entrata in un paese di notte e stata inseguita in macchina per fare delle foto, per fare dei video, quindi ha perso due cuccioli, poi è riuscito a recuperarne uno, però il terzo non è stato più trovato, quindi ha perso un cucciolo perché le persone volevano fare le foto. Bisogna quindi comportarsi bene, rimangono degli animali selvatici, non bisogna rincorrere con il cellulare, non bisogna rincorrere in auto, per esempio io ho fatto questa fotografia dall'auto, ma l'auto era ferma, con i fari spenti, era spenta la macchina, quindi neanche rumore, io non sono sceso dalla macchina, ho scattato attraverso il parabrezza, infatti l'immagine originale non ritagliata mostra proprio la sagoma del parabrezza nella fotografia, quindi attraverso il vetro per non disturbare e si vede anche dalla camminata dell'orso che è parallela a me praticamente, con calma e così via. È una foto che parla molto del rapporto tra l'uomo e la natura, alla terza potenza, perché c'è un orso all'interno di un vicolo, poi ci sono qua dei poster che parlano di ecoturismo, quindi è un rapporto tra l'uomo e la natura, una forma di frequentazione della natura e poi qua c'è un murales che mostra Rihanna con un copricapo indiano, quindi c'è un lupo e un'aquila sopra la testa e anche questo richiama un po' il rapporto tra uomo e natura, quindi viene in qualche modo esaltata tre volte questa sorta di relazione biunivoca tra l'orso e le persone che abitano in questo luogo. Mi scusi? Sì? Lei è...